Dopo aver presieduto la Commissione regionale per la legalità, Vittorio Nola lancia la proposta di legge per la creazione di un osservatorio regionale sulla legalità. Di cosa si tratta, Nola? Si tratta di avere un organismo permanente, quindi a livello regionale, dove devono confluire tutti i soggetti istituzionali e anche l'Università del Molise, in maniera tale che ci sarebbero degli aggiornamenti e dei monitoraggi continui, proprio per tenere sotto controllo tutti i fenomeni che riguardano la criminalità organizzata e soprattutto il narcotraffico. Quindi è un osservatorio modulato sugli input che abbiamo ricevuto dal coordinamento nazionale dei consigli regionali e, pensate, in circa 16 regioni già esiste ed è configurato. Quindi abbiamo preso un modello e abbiamo adattato poi alle nostre esigenze. Ecco, questo osservatorio è poi con chi si interfaccia? No, l'osservatorio dovrà fare delle riunioni obiettivamente da rendere pubbliche. Ecco, la commissione regionale che adesso dovrà esaminare tutto l'articolato dovrà anche decidere ogni quanti mesi l'osservatorio si dovrà riunire e poi rendere pubblico il lavoro che ha fatto. Proprio per dare tutte le informazioni a tutti, soprattutto ai cittadini, ma uno degli obiettivi importantissimi è quello di educare la legalità, ma non solo le giovani generazioni, anche gli amministratori. Da chi sarà composto questo osservatorio? L'osservatorio sarà composto da 12 membri, di cui 9 esterni e 3 invece nominati dal Consiglio regionale, 2 da parte dei consiglieri di maggioranza e 1 da parte dei consiglieri di minoranza. Ovviamente potranno essere scelte anche persone non del Consiglio regionale. Dove avrà sede? Presso il Consiglio regionale del Molise. Grazie a tutti.